Torniamo in diretta con i nostri primi ospiti, ma ancora prima un rapidissimo aggiornamento a cura di Maria Pia Picciafuoco. Sì, Tony, direi un breaking news per forza, diciamo, dovuto all'attenzione al nostro territorio tutto. Al nord c'è il maltempo ormai da ore, centinaia e centinaia, gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia, in Veneto, in Feuli, Venezia e Giulia. E proprio in quest'ultima regione è arrivata appena una notizia che vicino a Udine i vigili del fuoco hanno dovuto evacuare l'intero palazzo dove è stato divelto dalla pioggia e dal vento il tetto. Quindi più di 40 persone evacuate tra gli oltre 300 interventi solamente in Feuli, Venezia e Giulia. Ma avremo tempo anche più tardi, intanto appunto volevo assolutamente aggiornarvi su questo. Attenzione dunque anche al maltempo, non solo al caldo. Grazie Maria Pia, come detto in studio ci ha raggiunto il primo ospite di oggi e qui con noi stamattina, Gianfranco Pazienza di Lega Ambiente Circo L'Ospirone San Giovanni Rotondo. Buongiorno e bentornato nei nostri studi Gianfranco. Grazie, grazie dell'ospitalità, ovviamente è sempre un gran piacere trovare il pubblico di Teleradio Padre Pio. Il piacere è il nostro anche perché come circolo Lega Ambiente L'Ospirone di San Giovanni Rotondo state facendo tante attività interessanti e adesso ce n'è una proprio nuova di zecca potremmo dire così, il progetto Respiro la cui immagine vediamo oltre che alle mie spalle sul maxi schermo, alla mia sinistra sul maxi schermo anche sulla tua maglietta. Doverosa. La parola Respiro è alternata da alcuni punti che quindi sicuramente ci stanno ad indicare che quelle lettere R, S, P, I, R e O indicano qualcosa di più. Hanno un significato importante, recupero, spazi di inclusione, di resilienza e ospitalità. La parola Respiro è stata coniata dagli studenti del liceo statale Maria Immacolata perché questo progetto nasce con Lega Ambiente ma con una fitta rete di collaboratori e collaborazioni, non poteva essere altrimenti, tra questi gli studenti del liceo che nel periodo della pandemia abbiamo in qualche modo incontrato proprio per fare insieme delle attività. Era difficile lavorare, come dire, con il lavoro da casa e poi quando abbiamo avviato questo progetto ci siamo ritrovati. La riqualificazione di uno spazio urbano, uno spazio dedicato praticamente alla socialità, uno spazio che è sostanzialmente un'area del comune, del quartiere che però non ha servizi e qui ci sono gli ospiti di questo quartiere che sono i ragazzi del centro polivalente per dievi di disabilità in Manfrancavilla e con gli operatori, con gli ospiti e con i cittadini del quartiere abbiamo creato un momento, qualche giorno fa, un momento di convivialità per costruire legami di comunità perché i nuovi quartieri a San Giovanni Notondo nascono come se fosse senza un'anima, invece qui riusciamo a trovare un'anima e qui vediamo un plastico, anche questo realizzato dagli studenti, da giovani studenti che sono i ragazzi della scuola Melchionda che hanno una visione, come vedete i ragazzi quando disegnano il futuro lo disegnano più bello di quello che abbiamo realizzato noi. La prima cosa che hanno indicato è una pista ciclabile. L'hanno fatto i bambini delle classi prima e seconda della scuola Melchionda partecipando con questa idea che ispira il progetto Respiro, partecipando a un concorso dell'ufficio scolastico provinciale dell'università di Foggia che si chiamava La città che vorrei e quindi ci troviamo esattamente allineati. Cosa faremo nel prossimo futuro? Continueremo a creare momenti di progettazione condivisa perché vogliamo disegnare con gli ospiti, con gli abitanti del quartiere, con i volontari, con le tante associazioni volontarie, vogliamo disegnare insieme questo spazio per realizzarlo magari progressivamente perché abbiamo avuto un finanziamento dalla Regione Puglia, dai servizi sociali della Regione Puglia, l'assessore Rosa Barone ha fatto un bando che appunto si chiama Puglia Capitale Sociale 3.0, questo progetto è cofinanziato in minima parte, noi metteremo 1000 Euro come lega ambiente, però il Comune ce ne mette a disposizione 8000 e più 3000 di personale e la cooperativa Atena che mette a disposizione una splendida operatrice che si chiama Carmen Di Nonno e con 3000 Euro, insomma abbiamo messo insieme un po' di soldi per fare una piccola parte, poi chiederemo alla città di aiutarci perché respiro... Io credo che il grande valore di questo progetto come stiamo vedendo dalle immagini, qui la presentazione ufficiale nel chiostro comunale di San Giovanni Rotondo con il Presidente Antonio Tortorelli e tutti i rappresentanti delle varie partnership, credo ecco stavo dicendo che il valore di questo progetto sia assolutamente quello del capitale umano, del capitale umano esatto, che sta convergendo per realizzare questo progetto molto bello, con un nome fantastico, respiro che poi ecco ci dà l'idea da quello che vediamo di un respiro molto ampio. Molto ampio, devo dire che il valore di questo progetto come ricordavi è la fitta rete di relazioni tra le associazioni e i cittadini, San Giovanni ha un grande valore che va in qualche modo ancora una volta esaltato, che è la capacità del volontariato, della cittadinanza attiva di operare nella città e l'amministrazione comunale, ovviamente noi abbiamo sempre avuto la presenza del Sindaco Michele Crisette e dell'assessore Maria Pia Patrizio che in questo progetto credono molto, anche altri assessori ci stanno supportando, soprattutto per la parte urbanistica, Lucia Palladino, l'assessore all'ambiente Matteo Maciale, ma questo progetto nasce in un momento difficile, non solo della nostra città ma di tutti, che era il problema della pandemia e quando è nato il nome Respiro è perché volevamo ritrovare l'ossigeno che la malattia ci aveva tolto e anche per ricordare le tante vittime di questa pandemia, molti cittadini di San Giovanni Notondo ci hanno lasciato in quel periodo, l'ospedale Casa Solievo è stato come sappiamo in prima linea nell'affrontare la tragedia di questa pandemia che nessuno sapeva ancora come gestire e quindi questo progetto vuole anche ricordare questa pagina della storia recente. Grazie Gianfranco, in pochi minuti abbiamo condensato, sei riuscito a condensare tanti messaggi importanti e io mi auguro che chi ci segue possa seguirvi anche attraverso le pagine social, i siti internet su cui testimoniate. Esatto, abbiamo il sito www.progettorespirosgr.it la pagina facebook Progetto Respiro SGR, so che avremo un'opportunità sperata perché il liceo sta facendo un progetto a PNRR su una web tv della scuola di cui voi sarete mi pare patrocinatori, quindi avremo la possibilità nei mesi futuri di seguire il progetto anche in video. Sì, è la garanzia che resteremo in contatto e quindi seguiremo il progetto, intanto ti ringrazio per la tua presenza qui oggi, per la tua disponibilità e vi auguro buon lavoro. Grazie, grazie Tony, grazie a tutti gli ascoltatori. A presto allora, per il momento linea alla regia, noi ci ritroviamo fra pochissimo.